Servizio di consegna! Oh la la, oh la la, oh la la Quello la era grasso grasso e è diventato magro magro Vorrei capire anch'io per diventare un po' magro Vediamo cosa c'è nella spesa Oh mamma Sei pronta? Si sono pronta A fare l'unboxing Hai fatto una bella spesa? Oh la la, mettila sulla segna Allora Si chiama unboxing questo Hai capito? Spesa, fiori fiori Non sapevo cosa avevi comprato Abbiamo comprato due banane Solo due? E le altre due le ho preso io Ah, fatto bene Ma sai quanta gente c'era? Eh? Era pieno di sforzo Eh, caspita, oggi sono a casa la gente Bodino Bodino, bravo, grazie Cioccolato Ah, ecco, si, ci volevo, ci volevo, si, si, si Cioccolato Spegnila Cioccolato Poi Ma ce l'hai la spesa bene? Peperoni Ce l'hai scritto la spesa? Si, l'ho buttato via Ma perché l'hai buttata via? A quelli si Colazione Colazione ci volevano Tutta roba giusta Melatonina Melatonina Ma io ce l'avevo già Bevevo già quella lì Come no? L'ho pagata a 17 euro questa Ma figurati Apri un po' là Apri un po' là Il primo cassetto Questo? Si Melatonina ce l'avevo già No, non c'è scritto melatonina C'è scritto camomilla sedacciata No, allora qua Guarda che c'era anche la melatonina Allora l'ho già buttata via la scatola Si fa niente via Dai, dai Poi Aceto Oh mamma Che bello Bianco Cipolle Sotto aceto Si, si Ci vogliono Ci vogliono Si Mele Gialle Si, si Ci volevano Bravo Grazie Mamma mia Un po' di verdura Un po' di verdura No, quella lì è mia Quella lì era già mia Bravo Ma non sei stata? Eh? Era per far vedere Che colpio Per fare il minestrone Per fare il minestrone Minestrone Vale Un altro po' di verdura Bravo Grazie Ah, quelli ci volevano Ci volevano Tanto li prende tutte voi Ma io Devo nasconderle qualcuno Perché a me piace Quando non digerisco Bevo uno di quelli Mi fa digerire E poi Questi Ah, eccoci Sì Bravo Siamo stati bravissimi Sì, adesso il conto però ci vuole Bisogna fare il conto Conto Quenta Senza lattosio Alta digeribilità Senza lattosio E per forza Se l'ho Eh?